Questa è la terra. Una volta era piena di foreste, poi sono state abbattute per costruire le città. Anche le città sono state rase al suolo per fare spazio alle mucche. E nei buchi rimasti sono state piantate delle telecamere. Lo so, sembra terribile, ma non è così grave. È solo questione di tempo prima che un asteroide faccia saltare in aria tutto quanto. Blu? Sì, fai sospirare un po' più piano. Scusa, stavo pensando. Prima di colazione? Ma a me gira la testa se non mangio almeno una brioche. Una dolce e una salata. Mmm, e un cappuccino grande. Blu! Blu! Sono rimasti i muffin in cucina. Ho paura di averli mangiati tutti stanotte. Vabbè, facciamo così. Per sicurezza noi ordino un cesto. Cane ciccione, ma dove la trovi la voglia? Blu, ne abbiamo parlato ieri, ricordi? E il giorno prima è quello prima ancora. Devi pensare giorno per giorno, amico. Ma non capisci. Là fuori c'è l'apocalisse e tu vuoi stare a guardare. Anzi, tu non vuoi neanche guardare. A te basta mangiare. Questo mi ferisce nel profondo. Dobbiamo protestare e raccogliere firme. No, ci vorrebbe troppo tempo. Sequestriamo il Parlamento. Diamo il via alla rivoluzione. Oppure... Scriviamo una performance. in cui attori imbavagliati in una gabbia piangono per un'ora e mezza. Aspetta, a cosa serve la gabbia? Che senso ha? E la vita? Cosa dobbiamo fare? Potremmo alzarci dal letto per cominciare? C'è niente di più difficile che alzarsi da un letto. Sì che c'è! Alzarsi da un letto a castello! Sì che c'è niente di più difficile che alzarsi da un letto.